Sei pronto a scoprire tutti i dettagli sul presunto fidanzamento tra Sara e Holden? Da tempo si sussurrava di una possibile relazione tra i due cantanti, ma solo ora, dopo la fine del talent show, possiamo finalmente fare chiarezza. Durante una recente intervista a Verissimo, Sara ha parlato apertamente del ragazzo con cui ha stretto un bel legame all'interno della casa. Inizialmente entrambi erano riservati, ma pian piano hanno scoperto di avere molte affinità ed è nata una bella amicizia. Durante la stessa intervista, Sara ha anche parlato del suo percorso nel talent show, e ha rivelato che la sua insegnante, Lorella Cuccarini, è stata fondamentale per il suo cambiamento positivo. Un momento emozionante è stato quando Lorella è entrata in studio durante l'intervista per fare una sorpresa alla sua allieva. Le due si sono abbracciate e hanno ricordato insieme l'inizio del percorso di Sara, sottolineando quanto sia cresciuta e cambiata nel corso del tempo. Ma non è finita qui. Durante l'intervista, Sara ha anche rivelato con chi ha legato di più nella scuola del talent show. Oltre a Holden, la cantante ha citato Marisol e Sofia come le persone con cui ha stretto un forte legame. Ma la sorpresa più grande è arrivata quando suo fratello maggiore è entrato in studio per dedicarle delle dolci parole che l'hanno lasciata senza fiato, emozionando non solo lei ma anche la conduttrice e il pubblico presente in studio. Insomma, l'intervista di Sara a Verissimo è stata ricca di emozioni e sorprese, svilando dettagli interessanti sulla sua esperienza nel talent show e sulle relazioni che ha costruito con i suoi compagni di avventura. Se sei curioso di scoprire di più su Sara e Holden, non puoi perderti questo articolo che ti ha svelato tutti i retroscena di una delle coppie più chiacchierate del momento. E chissà quali altre sorprese ci riserverà il futuro per questa giovane e talentuosa artista.